Mancano dieci giornate e chiaramente ogni partita diventa quasi una finale per aggiudicarsi un posto nei play-off, primo obiettivo e per aggiudicarsi il miglior posto dei play-off. Arriva Varese che ha un obiettivo invece molto chiaro che è quello della salvezza e solo in un secondo momento potrà vedere se giocassi qualche chance per il play-off. Quindi arriva una partita come fosse una finale contro una squadra che abbiamo battuto all'andata e che però si è messa un po' a posto con il sogno estivo di quello che avevamo preventivato nel nostro mercato che è Johnson, una squadra che viene da una vittoria abbastanza netta sul pistoia, ha talento sul perimetro, ha il miglior rimbalzista del campionato, il nanosì che è il miglior stoppatore del campionato in pelle o pelle come si pronuncia e credo che sia una partita dove fino in fondo bisognerà strappare con i denti questi due punti giocando anche con un'energia maggiore nell'arco dei 40 minuti rispetto alle partite precedenti. No, non mi sembra l'armante per niente, mi sembra che ci sia una riduzione del gap dei punti, cioè della fascia dei punti di tante squadre che sono vicino a noi, c'è Sassari che ha ripreso un cammino importante, c'è Reggio Emilia vicino, io credo che siamo tutti lì e quindi noi adesso abbiamo, c'è Venezia che è subito sotto, siamo tante squadre in pochi punti ed è chiaro che l'obiettivo è quello di raggiungere la miglior posizione possibile, tutti noi lottiamo e speriamo per arrivare secondi, però oggettivamente ci sono dieci giornate dove ogni partita può fare migliorare questa posizione o confermare questa posizione oppure può far vedere che altre squadre stanno venendo su ma non è assolutamente un grido di allarme o un grido di sfiducia nei confronti di niente e di nessuno, però è un dato di fatto che siamo tutti in pochissimi punti e nelle dieci gare che ci sono, si sono viste nelle ultime giornate che c'è una grande così, un po' di novità nelle partite, le squadre tra virgolette piccole hanno vinto tutte con quelle in casa, ma non così, per un qualche cosa di estemporaneo perché sono tutte affamate di punti, perché adesso conta dove ti giochi tutto, perché tutte si sono rafforzate e quindi io non credo che sia un caso che le prime abbiano tutte perso nell'ultima giornata in trasferta, adesso diventa un po' più difficile giocare partite dove tutti hanno cambiato il tutto per tutto per non retrocedere e per arrivare poi nei play-off e quindi visto che la classifica è così corta dobbiamo veramente lottare fino in fondo, fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata per conquistare la migliore posizione, ma non è, ripeto, non voglio essere frainteso come forse sono stato sulla nostra possibilità di far bene. Un po' come l'hai detto tu, è chiaro che la partita di Venezia è stata molto più controllata, purtroppo per noi abbiamo fatto, io credo, bene per tre quarti, anche qualche cosa in più di partita, abbiamo avuto una grande sterilità offensiva nell'ultimo quarto, sbagliando tanti tiri e magari correndo anche un pochino meno di quello che avremmo voluto, soprattutto sul primario. Brescia è stata una partita invece, soprattutto per noi, un po' più diversa dal solito, abbiamo passato una settimana nella grande, no preoccupazione, ma nella grande attività nel inserire David Logan, soprattutto sotto un punto di vista offensivo, far sì che lui potesse scendere in campo e sapere quello che doveva fare. Brescia correva in maniera incredibile con un passaggio e tiro e magari lasciando anche in difesa qualche spazio e anche qualche rimbalzo d'attacco in più, è stata due gare diverse. Poi è anche vero che all'interno delle partite, secondo me con Brescia abbiamo difeso un pochino peggio, con Venezia abbiamo difeso un pochino meglio. Con Brescia abbiamo tirato con altre percentuali anche favoriti da loro, con Venezia abbiamo preso anche tantissimi tiri buoni che purtroppo non sono entrati, quindi ci sono un po' queste due caratteristiche. Noi che giochiamo con tre lunghi, io penso questo che è sempre un ragionamento molto un po' più di allenatore, un po' più di ricerca. Tutte le volte che si è in un periodo di emergenza, l'emergenza all'inizio viene non sempre ma spesso affrontata in maniera positiva perché tutti hanno più minuti, perché tutti sanno che devono dare qualche cosa in più. Poi dopo quando tu non ti alleni per un po' di tempo il negativo viene un po' dopo, perché hai spremuto un po' più i giocatori, perché hai fatto degli allenamenti magari non particolarmente piacevoli, non hai fatto le cose che avresti voluto fare. Queste sono cose che a quasi nessuno interessano, perché poi alla fine la gente viene a vedere le partite, voi scrivete e vi interessa scrivere quello che vedete sul campo. Però io credo che l'emergenza viene sempre tamponata come abbiamo fatto noi nell'immediato, cioè noi abbiamo fatto una partita con Milano di altissimo spessore ed eravamo lo stesso in emergenza. Ecco, poi però lo si paga dopo, ecco, lo si paga dopo col tempo che passa. Poi che Martin Lunen o Marcus Green siano particolarmente giù fisicamente, ecco, non lo so, non mi pare in maniera così. Mi sembra che Martin abbia fatto una gran partita a Venezia, una buonissima gara, Marcus il minutaggio che ha, credo che lo possa gestire bene. Ecco, poi dopo è chiaro che di Lune ne abbiamo un po' più bisogno, soprattutto in questo periodo che c'è un lungo in meno, questo non c'è dubbio. Ecco, la cosa così non scusante però dato di fatto non stava molto bene Andrea Zerini nella partita di Venezia, proprio lui fisicamente era un pochino debilitato, così solamente per un dato di cronaca. È chiaro che Martin è stato utilizzato, però non mi è sembrato particolarmente stanco. Beh, sai, io credo che Davis sia un buonissimo giocatore, credo che ha fatto una partita a Brescia sicuramente con della frizzantezza, è stato bravo a battere l'uomo due o tre volte, a trovare degli scarichi ottimi, ha pressato i premi a tutto campo. Oggettivamente, perché sono i numeri che parlano, Venezia ha fatto uno su otto, due palle perse, è andato un po' più così. Ecco, credo che intanto ci sia un discorso di preparazione anche degli avversari, dove ci sono stati dei traticismi un po' diversi. Deve fare un po' canestro, però piano piano, passo dopo passo, noi speriamo di recuperarlo. Sono convinto che già domenica lui avrà un compito abbastanza arduo, sia difensivo che anche offensivo e speriamo che anche in casa riesca finalmente a darci tutto quello che noi ci aspettiamo. Però, ecco, come tutte le cose, ha bisogno del suo tempo, la sua gradualità nell'intervento e nell'inserimento.